Buon appetito alla nostra cucina! Oggi prepariamo una ricetta medievale prima, peggio friggio con una salsa di gusto e aromatica. Puoi usare per questa ricetta qualsiasi tipo di peggio. Prendiamo le peggio, le peggio rosso, le peggio e le peggio. Prendiamo gli ingredienti per la salsa, il vino bianco, l'olio d'oliva, il garum, le peggio e le peggio, le peggio, le peggio, le peggio e le peggio, le peggio, le peggio e le peggio. Usiamo solo un po' di questi ingredienti che possono facilmente overpowerire la salsa. Prendiamo le erbe fresche, l'oregano e il rullo. La rullo è una erbe forte, aromatica e un erbe troppo dolce che fu utilizzata dagli romani antichi e durante l'anno scorso. Prima prepariamo la salsa. Prendiamo il mortaio, il peggio nero e le peggio coriandre. Prendiamo le peggio e le peggio coriandre. Questa ricetta fu scritta nel 15 o 16 secolo, durante l'Italia gotico. L'autore Vinidarius, probabilmente un peggio, usa molti ingredienti tipici della cucina antichi romana, come la garum e la safetida, e la salsa si intende a un equilibrio tra le erbe fresche, le spezie, la dolcezza e l'acidità, anche tipici della ricetta antichi romana. Ora aggiungiamo nel mortaio un peggio coriandre. Finalmente aggiungiamo l'oregano e la rullo. Se preferisci, puoi tagliarlo nel mortaio, con le spezie e l'acidità. Prendiamo l'oregano e lo riduriamo per una terza. Il prodotto che abbiamo ottenuto era chiamato Defrutum, anche se chiamato Defrittum, per gli antichi romani antichi romani, e era un sottotitore di sottotitore. Ora aggiungiamo tutti gli ingredienti aggiungendo la safetida. La safetida era più ampia usata nel Mediterraneo antico e anche negli antichi romani antichi romani. Era conosciuto con il nome latino di Laser o con il nome greco di Silphium. La varietà più prezzata, chiamata Laser Cirinacum, era coltivata in Libia moderno e non è più prodotto oggi, ma la varietà esterna, chiamata Laser Particum, è ancora usata in molti paesi. Ora cuoceremo la salsa per solo 30 secondi. Ricordate di usare tutti gli ingredienti in moderazione, particolarmente garum, che è abbastanza salto, per ottenere una salsa sottotitore e sottotitore. Garum era una salsa sottotitore utilizzata da popolazioni antiche mediterranei, producata con pezzi, salto e, a volte, spezie. Alcuni tipi di garum erano produciti in stile modo come le sottotitore di sottotitore. sottotitore di sottotitore. Poi, dipendiamo il pezzi. Dopo scalare e sottotitore, usiamo l'olio extravirgino di oliva di oliva per fare una ricetta storicamente accurate, ma selezionate di usare l'olio più alto. Ora siamo pronti per imparare. Serviamo il pezzi coattato con la salsa. Questo pezzi molto aromatico è un modo delizioso per aver capito l'interessante connessione tra la città medievale e la città antica romana.